Valentino Rossi è pronto a correre la sua ultima stagione in MotoGP con la Yamaha ufficiale. Il 9 volte a campione del mondo negli ultimi tempi ha portato a casa risultati al di sotto delle aspettative e la voglia e il sorriso non bastano più. Impegnato ad omare difficoltà della sua moto, oscurato da una nuova generazione di piloti aggressive senza scrupoli in pista, il pilota italiano inizia ad invecchiare e i suoi 41 anni sono ormai un limite evidente e non solo più un semplice numero. Mai preso d'animo, il dottore deve affrontare la realtà. Da 2021 il box sarà condiviso da Vignales e Quartororo, giovani talenti che la casa di Wota ha voluto assicurarsi a tutti i costi. L'esperienza lascia quindi spazio alla spensieratezza e alla voglia di crescere dei giovani. Che si ritiri o no, alla fine del 2020 Rossi resta di fatto l'icona incontestata nel motociclismo. Non si parla comunque di un ritiro sportivo, bensì di un cambio di direzione. Ho sempre detto che quando smetterò con le moto vorrei correre per una decina di anni con le auto. Mi piacerebbe partecipare alla 24 ore di Le Mans, alle 24 ore di Spa e a quella del Nürburgring. Questo forse sarà l'ultimo anno in cui vedremo Valentino Rossi su una sella a giocarsi la vittoria, ma di sicuro ce ne vorrà di tempo prima del definitivo addio ai circuiti. Grazie.